Benvenuto al Comendatore Aldo Spinelli, partiamo dal tema che forse lei è più caro, quello della nuova diga foranea. In questo periodo ci sono un po' di preoccupazioni per l'inalzamento dei prezzi delle materie prime, devono esserci le manifestazioni di interesse per realizzare l'opera, c'è chi chiede che vengano adeguate le cifre ai nuovi costi aumentati, ma prima di tutto l'opera deve essere fatta, poi in corso d'opera è chiaro che le materie prime che stanno subendo aumenti pazzeschi, è chiaro che i costruttori giustamente si devono tutelare perché oggi tutte le materie prime hanno subito un traccolo del 30-40% in più, quindi se la situazione si normalizza è giusto, se no in corso d'opera bisogna fare degli adeguamenti tarifari verso chi vincerà la gara, questo è normale perché in tutte le cose c'è una guerra in corso che produce purtroppo nelle materie prime un aumento notevole dei costi e quindi io credo che chi vincerà la gara è giusto che si sono le situazioni, si chiamano situazioni d'emergenza, vanno rivisti i costi e adeguati a quelli che saranno gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Però lei dice che la gara deve essere fatta e deve essere aggiudicata e deve partire tutto l'iter e poi dopo si fanno in corso d'opera gli adeguamenti perché il rischio è che poi ci siano ricorsi. La gara deve partire immediatamente, come devono partire immediatamente alcuni tombamenti delle manchine, devono partire le opere ferroviarie perché ci sono i soldi, se noi non li spendiamo rischiamo di perderli e l'occasione per Genova di diventare un porto europeo è in questo momento perché non abbiamo mai avuto tanti soldi dallo Stato come in questo momento e se noi perdiamo queste occasioni veramente dobbiamo dimenticarci di quello che siamo capaci a fare. Ma io credo che la Giunta, sia il Presidente, signorini, sia Bucci e sia Totti siano sicuramente sul pezzo e quindi faranno partire sicuramente. Poi si è impegnato Draghi personalmente, ha messo i primi 500 milioni da spendere. Quindi io credo che trovare delle scuse per ritardare sono solo scuse che non vogliono fare ripartire Genova, il primo porto europeo diventerà. È assurdo che la città di Rotterdam che ha tanti abitanti come Genova faccia 11 milioni di TEU e noi siamo a 2 milioni e 8. Con la diga foranea noi possiamo dare lavoro ad altre 40-50 mila persone a Genova e in Liguria soprattutto. L'altro giorno lei è andata in autorità portuale per fare che cosa? Ma siamo andati in autorità portuale perché rivendichiamo, ci hanno tolto in questi anni 62 mila metri quadrati e ci devono ridare 62 mila metri quadrati facendo dei tombamenti, ritagliando dove ci sono delle aree libere ce le devono dare perché ce ne hanno tolto 62 mila metri. Andiamo nello specifico, tolti da dove e che tombamenti chiedete? Tolti dal riempimento di calata Betolo, tolti dalla derna 12 mila metri, tolti dalle concessioni che noi avevamo. Quindi per aiutare chiaramente il crollo del ponte Morandi abbiamo dovuto sacrificare tutte queste aree. Quindi è giusto che poi l'autorità portuale trovi con i riempimenti dove adeguarci questi spazi. Dove l'avete chiesto i riempimenti? Ma guardi, il riempimento principale è calata con center, poi ci sarà la fase 2 che dovrebbe essere o Giacone o calata in assinglese. Infatti questo è un bene anche per la città perché il comune di Genova mi risulta che abbia 200 mila metri cubi di terra da sistemare. Quindi verrebbero anche libere le aree che ci sono in questo momento occupate da tutta la terra che ha prodotto il crollo del ponte Morandi e quindi sarebbe un bene doppio e un risparmio doppio per la città. Queste richieste in vista del disegno del nuovo piano regolatore portuale che entro un anno dovrebbe nascere. Io spero prima perché ormai credo che sia in dirittura d'arrivo. Calata con center dovrebbe essere anche insieme alla diga, dovrebbe essere imminente riempimento. Quindi cosa vuol dire? Che dando calata con center a noi, noi liberiamo Rubatino Ponente per MSC. Quindi c'è un mosaico dove c'è MSC è un termine e Spinelli l'altro termine. Le rinfluse fra 10 anni, 12 anni, 8 anni, secondo l'evoluzione che il porto di Genova farà, ci adeguerremo a quello che è il piano regolatore. Ma ci sono voci di vendita da parte sua MSC e della possibile formazione di un grande termine alla San Pier d'Arena in lineare con i riempimenti alleati voi due? Assolutamente no. Guardi, a Ponte avrà il suo terminal e Spinelli avrà il suo terminal. Sono due concessioni completamente distinte. Una volta che è partita la Digo, una volta che ci sono i riempimenti, siamo già d'accordo che terminal rinfuse e fra 8, 9, 10 anni ci saranno due terminal contenitori e traghetti. Lei non vuol vendere nulla? Noi non vendiamo assolutamente. I fondi hanno un obbligo di vendere entro il 2024. È chiaro che si stiano dando da fare per trovare di collocare la loro quota, ma la nostra quota è invendibile. Da tutte le società, insomma. La maggioranza è invendibile. Quindi noi, il 45%, i fondi, sapete come danno 6 anni, 12 anni, noi abbiamo ottenuto che però il socio che diventerà nostro socio deve avere il nostro parere favorevole. Quindi entro il 24, questo 45%, il 24? Loro già lavorano con le banche perché le azioni sono le banche, che per conto del fondo, non per conto del gruppo Spinelli. Quindi MSC potrebbe comprarsi quel 45%? Non credo perché MSC ha i suoi traffici. Noi abbiamo i nostri traffici, dei nostri armatori. Quindi saranno due concessioni ben distinte e ben separate. Questo l'ha concordato col dottor Gianluigi Aponte personalmente. E siamo d'accordo su tutto. Quando naturalmente aspettiamo solo la partenza della diga e i tombamenti. E poi va avanti tutto in parallelo, in armonia, perché tra me e il dottor Aponte c'è grande armonia, grande sincerità. I nostri armatori, io li devo tutelare come lui tutela i suoi traffici. Vuole dire ancora qualcosa? Aggiungere qualcosa a cui tiene parecchio, insomma, particolarmente? Devo ringraziare il presidente Signorini, il sindaco Bucci, che veramente, finalmente, sono riusciti a far partire questa opera che dovrebbe partire entro luglio perché è 30 anni che noi aspettiamo questa diga foranea. Non è possibile che noi abbiamo la diga foranea che è del 1900 e quindi siamo indietro di 30-40 anni rispetto al nord Europa. È chiaro che tutti ci deridono perché geograficamente Genova è nella miglior posizione possibile in Europa. Ma c'è il rischio che nessuno si presenti per costruirla, vista quella questione degli extracosti? Ma non credo, guardi, ci sono due grandi imprese, naturalmente molto grosse e molto forti. Io avrei scelto la terza perché io le posso dire che la diga foranea hanno fatto l'isola a Monte Carlo. Quindi di chi parlo? Parlo di quelli che hanno costruito l'isola a Monte Carlo, l'hanno fatta in due anni e mezzo. Io ho il filmato che poi ve lo faccio vedere, in due anni e mezzo c'è già otto palazzine al tetto, in due anni e mezzo. Quindi la diga foranea la prima parte potrebbe già essere finita nel 2000, oggi siamo 2022, io dico la prima parte, quella centrale dovrebbe essere già finita nel 2024-25. Ma non si presenta questo gruppo? No, io penso che questi due gruppi si siano naturalmente, è una grande opera, è chiaro che devono rivedere i prezzi perché chiaramente le materie prime sono salite del 30-40%, quindi le gare purtroppo al massimo possono salire del 20%. Il problema è se adeguano prima o dopo della gara, cioè uno potrebbe dire io non mi presento a queste condizioni e allora va deserta, prima le cambiate oppure tutto sta lì alla fine? Guardi, in corso d'opera si può cambiare tutto, giustificando naturalmente i costi, perché qui siamo di fronte a una situazione che le materie prime sono salite del 30-40%, quindi è chiaro che sono due grandi gruppi che partecipano a questa gara, perché ormai sono rimasti loro, quindi io credo che potrebbero fare anche un'associazione temporanea di impresa e farne metà per uno, ecco al limite capisci, se no chi vince sa che dovrà poi avere un adeguamento dei costi e l'autorità portuale deve adeguarsi a quello che sono i costi veri che produce la guerra, non le produce, è così per caso. Sta anche usare una battuta sul Genoa? Ma guardi, il Genoa rimane, io credo, buone intenzioni, da parte io ho avuto il piacere di avere dei colloqui e so che hanno grandi intenzioni per riportare il Genoa a essere a. Speriamo che queste loro intenzioni si tramutano, infatti, e noi vogliamo vedere veramente i primi acquisti importanti per risalire. I nomi le piacerebbero? Ma possibili, eh, in base a quello che lei dice. Io ho letto il nome di Coda, io gli ho detto che veramente è un giocatore importante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, come un altro nome, quello del Lecce, che non mi ricordo, quindi stanno lavorando su degli altri, e soprattutto ci vuole gente che faccia gol. La cosa più importante, come noi avevamo Scuravi e Aguilera o Lucarelli, e quindi bisogna che ci siano degli attaccanti che fanno gol. La cosa più importante è quella. I tifosi lo seguiranno anche in Serie B? Lei andrà a vedere le partite? Io ammiro i tifosi che, nonostante che sia sceso, siano a fianco di questa società. Questo è un bel segnale, ecco, per la tifoseria, ma soprattutto i giocatori che dovranno venire e sapere che hanno i tifosi a loro favore. La vedo bella carica, almeno chiudiamo col sorriso questo intervento. No, ma quando si parla di Genova bisogna sempre sorridere e essere ottimisti. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie.